Quello che sentite è il batterista nuovo dei Wake Up Vediamolo in tutto questo... Ciao Francesca! Ciao Francesca! Francesca! Ora glielo potete dire? Ehi! Basta! Si, ci piace da morire! Siamo tutti cagliati! Sì, tutti! ska rock metal aspetta che serietà che schifo lo devo lavare per arrivo a casa lo metto sotto l'acqua fed aspetta che ti sento tippo eh che becchio eh tippo con la coppia mia si deve togliere forza suoniamo che vuoi suoniamo forza suona vai a quello che dico anch'io aspetta ma vai a doma occhio che tippo vola bravo che mira guarda guarda Grazie. In pratica ieri quando lo suonavo lui l'ha fatto... ...invece per com'era prima... ...con la cassa. Non mi sentai del verde? Ah, siccome hai parlato del verde... ...niente che stavo rummurando! Pippo! Pippo, dippo, dippo!!! Pippo! Pippo di te چ slices! Un'espressione da Marco? Marco parla di qualcosa! E' morto! Non è quello Marco? Uno, due... ... Ciao a tutti amici di MySpace! In inglese, con l'accento inglese! Noi siamo in wake up, siamo in studio... Questo accento non è inglese, è bolognese! Stiamo cercando di... Perché parli come Elisa? Elisa parla così perché... Stiamo cercando... Stiamo cercando di fare un disco nuovo... Stiamo cercando di fare... Non è la 8, la... Con la... Che sono a caputo Nendi? 8, 19... Ciao amici di MySpace! Ciao amici di MySpace! Stopping! Marco tu! Ciao amici di MySpace! 18, wow wow wow! Comunque... In questa sala ci sono anch'io... Ero qua anch'io pure ieri eh! Certo... A rompere i coglioni! Certo! A fare i filmati! Si c'è una mia foto! C'è anche Tipo! 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 Ehi!